Siamo con la dottoressa Francesca Cortellaro, la responsabile di un progetto attivato subito dopo il Covid da Regione Lombardia e Areu. Dottoressa, cosa succede se il paziente non viene identificato come codice giallo o rosso? Se il personale non sanitario di Areu definisce questo paziente non emergente urgente, la chiamata viene trasferita a una centrale, detta centrale medica integrata, dove si trovano medici esperti di pronto soccorso. Questi medici sono in grado di gestire il paziente nel suo bisogno, quindi ha la sua domanda di salute, che è acuta e dal cittadino viene percepita come una domanda grave che richiede l'intervento del 112, quindi il trasporto in ospedale. Noi ci siamo resi conto che la gestione della problematica col supporto della televisita e anche di un invio di un team a domicilio riesce a non trasportare nell'80% dei casi questa tipologia di pazienti, usando anche però il trattamento con un team domiciliare nel 16% dei casi. Chi sono questi pazienti? Fondamentalmente sono due tipi di popolazione, la popolazione più giovane che ha una percezione del suo problema come acuto e magari in quello che si chiama out of office, cioè dove non trova il medico di medicina generale, nelle ore diurne purtroppo si rivolge a 118 o si autopresenta in PS come sappiamo, ma la popolazione su cui vogliamo intervenire prevalentemente è la popolazione anziana fragile, quella che riteniamo non debba accedere a PS salvo indicazione ad ospedalizzazione, a ricovero, quindi esami di secondo livello, diagnostica di secondo livello, terapie ospedaliere. Su questa popolazione, che di fatto è la popolazione che accede adesso a questa centrale medica, perché ha un'età media di 80 anni, noi riusciamo a dare una risposta compiuta nel 65% dei casi. In un'altra percentuale invece mandiamo un team di medici che con l'ecografo, la diagnostica point of care, le CG, un set di farmaci coordinato con il medico senior che è nella centrale medica integrata, riesce a dare una prima risposta al cittadino. Ovvio è che questa risposta deve essere integrata, noi ci teniamo molto a identificare questo progetto come un progetto che promuove l'integrazione tra la rete dell'emergenza urgenza e quindi il bisogno del cittadino che si rivolge a questa rete con la rete territoriale, l'ADI, le cure palliative, l'infermiere di famiglia e ovviamente primo fra tutti il medico di medicina generale che deve riprendere in carico il paziente. Quindi si tratta di un trasferimento di saperi del medico d'urgenza senior nella centrale verso questi medici junior che vanno a domicilio del cittadino e che ci permettono, come in una sorta di PS virtuale, di gestire questi pazienti senza farli accedere all'ospedale. Anche l'ambulanza in posto, se i parametri vitali sono normali, la console sanitaria definisce che può essere non trasportato, ci contatta. Quindi noi abbiamo una coda di lavoro, di schede e richiamiamo i pazienti sostanzialmente in ordine. Nella richiamata raccogliamo la storia e facciamo una televisita quando necessaria, quindi spesso se vogliamo lasciare il paziente a casa e dare una risposta compiuta, una visita, facciamo una... Come funziona la televisita? La televisita è molto semplice, cioè il cittadino riceve attraverso un'applicazione integrata, Questo modulo ci permette di mandare un link tramite sms al cittadino, il cittadino si collega. Noi stiamo sviluppando delle skill per passare da medici di PS che sono abituati a lavorare in un setting di ambulatorio di pronto soccorso a un setting da remoto, quindi non è un automatismo. Stiamo formando i medici per fare questa cosa. Siamo convinti che anche il paziente acuto possa essere stratificato, inquadrato e a volte anche compiutamente diagnosticato con una valutazione in televisita. Pensiamo al paziente che ci chiama perché ha dolore e poi si trova un herpes zoster sull'emitorace. Quindi tutto quello che è visibile e che non necessita auscultazione e palpazione si può fare una gestione da remoto. Questo, come diceva la dottoressa, nella maggior parte dei casi consente anche di ridurre lo stress sui pronto soccorso, in modo tale che i pronto soccorso possano quindi prendere in considerazione i casi veramente urgenti. Sì, diciamo che da quando è partito il progetto, inizio 2022, noi abbiamo gestito più o meno 15.000 chiamate e di queste l'80% non è stato trasportato in PS. Come non l'abbiamo trasportato? Attraverso la televisita e nel 16% dei casi un invio di un team a domicilio, quindi sarebbe importante implementare questa attività degli domiciliari. Di questi pazienti fondamentalmente, che a noi preme dirlo, sono pazienti anziani, soprattutto quelli che andiamo a vedere a domicilio, hanno un'età media di 85 anni.